A distanza di due settimane dall'esito del ballottaggio a Giulianova tra il candidato del centrodestra Pietro Tribuiani e del Movimento Civico Ivan Costantini che alla fine l'ha spuntata per 59 voti diventando il nuovo sindaco Franco Arboretti leader del cittadino governante analizza il voto. Arboretti che ha conteso a Tribuiani sino alla fine la possibilità di essere lui il candidato che al ballottaggio avrebbe potuto sfidare Costantini parla comunque di un risultato importante per il suo movimento e critica apertamente il Partito Democratico che non esprimerà neppure un consigliere comunale. In merito a questi risultati ovviamente bisognerà diffondersi un po' perché ci sono tanti aspetti da considerare però c'è intanto se dobbiamo essere sintetici da rilevare il grandissimo consenso che ha avuto il cittadino governante che ha aumentato in maniera esponenziale i propri voti e ha messo in corsa anche se le condizioni precedenti elettorali dicevano che non era così ha messo in corsa tutto il mondo progressista e ambientalista giugliese per la vittoria finale. Però purtroppo c'è stato un atteggiamento di chiusura da parte del Partito Democratico che è stato severamente oltretutto punito per come è governato e non è presente in Consiglio Comunale e non ha avuto la capacità di analisi che era necessaria per poter capire che bisognava fare un atto di discontinuità e appoggiare il cittadino governante che per dieci anni aveva suggerito le vie di un buon governo che non sono state appunto ascoltate. Questo non ha consentito di andare addirittura dopo il primo turno in vantaggio e vincere alla fine come era largamente prevedibile. Smentisce inoltre di aver fatto votare Tribuiani nel turno di ballottaggio ha ricordato che tra PD e Movimento 5 Stelle usciti sconfitti al primo turno e con percentuali bassissime erano a disposizione circa 1850 voti. 600 sono andati a Costantini, 800 a Tribuiani. L'elettorato del cittadino governante non ha espresso invece alcuna preferenza. Arboretti ha poi parlato del dato negativo sia relativo al grande assenteismo nelle recenti elezioni sia del fatto che Costantini è stato eletto con appena 4.600 voti. In pratica il sindaco che ha ottenuto il minor consenso nella storia recente di Giulianova ha affrontato anche il tema legato al palazzo Gavioli costruito accanto al Cursale in modo abusivo e su cui gravano delle sentenze dei giudici che ne hanno decretato l'abbattimento o parte di esso. Sulla questione nelle ultime ore il sindaco Costantini ha tenuto una conferenza stampa. Per Arboretti il primo cittadino sarebbe apparso impreparato sull'argomento. Si era creata una grande aspettativa, dovranno accadere grandissime cose per la città e in realtà non abbiamo capito per quale motivo c'è stata questa conferenza stampa ieri. In realtà è tutto quanto rinviato ma quello che ci ha preoccupato sono state le dichiarazioni che ha rilasciato il sindaco che evidentemente è un pochettino di giuno di tutta la materia anche se dice che da 5 anni è in città a fare le battaglie ma noi ricostruiremo qui oggi quello che abbiamo fatto noi come cittadini governanti in mezzo alla storia di Palazzo Gavioli e quindi la ripercussione sul Cursale e quello che ci ha colpito è la dichiarazione per cui la confisca riguarderebbe il manufatto e non l'immobile come nella sentenza è detto che fa la differenza. E' un sindaco che queste cose le dovrebbe conoscere specialmente se ha un legale a cui magari poteva rivolgersi prima della conferenza stampa e magari dichiarare che le cose appunto non erano così come le ha messe lui ieri lì in conferenza stampa. Però ci diffonderemo di più su questo? Che fare lì ad un pochettino? Che fare? Rispettare la sentenza dove tutto sommato al secondo grado praticamente ha avuto pienamente ragione il cittadino governante che da anni, dal 2010, dice che lì bisognava tornare indietro in autotutela cioè che era fuori dalle leggi, dalle norme urbanistiche. E certo mi pare evidente, lo chiede anche per certi versi anche la sentenza che adesso andrà confermata in castazione ma ci pare ormai che questo è quello che accadrà. Intanto nutrita la squadra dei consiglieri comunali del cittadino governante, saranno tre, che annuncia un'opposizione intensa ma costruttiva. Il cittadino governante è praticamente l'unico rappresentante del mondo progressista e ambientalista e anche dei 5 Stelle a Giulianova e naturalmente questo ci fa molto piacere da una parte per noi, ci dispiace per gli altri che se ci appoggiavano molto probabilmente avrebbero scritto una pagina diversa in questo tornato elettorale. In ogni caso noi saremo un punto di riferimento per tutto l'elettorato che comunque non è rappresentato dalle proprie rappresentanze politiche in Consiglio Comunale e ci metteremo allacremente a lavorare sia in Consiglio che in città.